Oh, siete qui? Salve ragazzi, mi sto crogiolando ovviamente dopo le mie bellissime partite al Summer Schirmish E beh, se volete incontrarmi dal vivo mi potrete trovare proprio domenica alla Mondadori del Duomo di Milano Alle 16.00 assieme al buon Pelato Cannone 22 Quindi ragazzi, ci si vede in Esghera, ricordatemi di diremi se avete fatto la sub però Domanda raga, secondo voi, se una pizza normale costa 5 euro e quella famiglia costa 18 Quanto è più grande della pizza normale? Dipende il numero della famiglia quanto si intende Eh lo so, però se costa 3 volte 3-4 persone 3-4 persone Uno slice di pizza tagliate in quattro e grande con il metà, quanto il metà picco Quindi se io ordinassi la famiglia sarei una merda Mi stare dicendo Grazie, Blue Sapete che quasi qua Non te la fare tutto uguale che ti stucca le palle Eh no, infatti Stavo pensando così qua Ti prendo quella famiglia Però Margherita Fare uno Questa ha trovato il pompa dentro la scatola Dentro la cesta, è levy Sì sì sì, levy oro ho trovato Uno da me raga, uno da me Ora te lo dico io non sono messo in una bella situazione Non c'è niente Mi scena ammardo, mi scena ammardo, mi scena ammardo, mi scena a voi ragazzi Un pump sì, un pump sì, un pump sì Tieni Sono vicinato a voi raga C'è la giù per la casa dei mattoni Porca puttana Morto? Sciolto? Buono Le granate raga Oh, 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 oh Che cazzo era? Che cazzo è stato? 3 HP Di pronte, di pronte, di pronte raga In mezzo al parchetto Fino un attimo, bella gatti Sono due team? Ho un kit, io di ma No, mi sono venuto un bomboletto Mi sono venuto un bomboletto Ah, ok No, me l'ha stilato malissimo Non ci credo, vado Mi piace il panico, cazzo Oh, dietri me, dietri me, regà Arrivo da voi, arrivo da voi Arriva Non sarai sopra la casa Sopra la casa Oh, non c'ho più mazza Stai, riacci, raga Raga, non posso Eh, nemmeno io Buona, 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 grazie Quanto è rotto il fama Sani tanto, veramente Ma scioglie in HS Porca puttana Raga, e andiamo veloce al tiki? Eh, ragazzi, guardate Davanti a noi, davanti a noi Davanti a noi, davanti a noi Sì, 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 sì Arrivo Sì, now Cato? Oh, l'ho avuto quello Che schifo Che schifo Vedere queste cose fa veramente schifo Sono più di un team Eh, ma non c'ho tutti i colpi Sti colpi o starvi, che merda Eh, nemmeno io Dove sei qua davanti No, però, mi sei davanti Gastro col mondo No, vabbè, raga Mi ha laserato What? Che l'hame lock là dentro Ragazzi, ma come toccava questo? Raga, riuscite a fare il tizio che mi sta bene? No Taccati due Mi sono sprando a mio fiato Morto Morto Madonna Quanto fa schifo il FAMAS così È assurdo Ridicolo Raga, io mi devo guardare Siamo stati da qua, regà Siamo a me, a me, a me A R te ne serve ancora Magari, a vedi cazzo Dire Eh, no Basta, non posso dire Boh, siamo stati anche a lontagna Raga, noi non ci abbiamo anche un po' di roba Eh, mele, 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 raga Io poi c'ho ritratto Hanno ritratto Ok, dettate l'addosso Cioè, li vediamo tanto Dobbiamo sperare che non si mettano a sparare Cosa significa sotto al cubo Cioè, se io tocco il cubo Non succede niente, vero? No, no, no È un rift comunque Devi picchiarlo, devi picchiarlo per farci dare andando Ok Quindi non picchiarlo Oh, cosa fa? Non picchiarlo, Marge No, no, no È che io lo tocca Mi sono fatto il coso per saltare Così li vado a sbattere ma non mi lancia via Sì, 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 ci sta Siamo rimanendo qui a relazione Ok, che poi di fuori si incazza, eh Poi ci sono tre rift E due cesta, comunque Che cos'è quella cosa? Ma li esportati, poi, raga Usiamo questi prima di mo Ma ci sono ne viste ancora? Ce ne sono tre Tre e due cesta 29 puliti Voi prendete rift Eh, infatti, infatti, infatti Tranquillo Qua davanti, non ci ha visto, mi sa Arrivano, eh No, se stanno andando Sono tirati Ah, mamma mia Ok, li ho visti? Le nebulose, proprio messe così, raga Aspetta Ragazzi, serve che voi li fate fermare E girare di schede Io gli tiro i colpi di lancia granate Uno va dentro Bravo, Dimo Stillatissimo L'altro dietro, ok Ok, sorry Buona, buona L'altro, scenda Io c'ho shill Adesso Adesso Mi serve uno steal col pdr, ragazzi Quando volete, quando volete Quando vuoi? Quando volete tiramo dritti un bel po di gente però da rispettare i te a mamma mia prima lente ci ha messo a venire a b8 che ci stanno facendo fati di trattato tre volte di franco e di franco e se vuoi 323 gli ho fatto banca un attimo il fianco evitato 120 e allora quello è andato buona ho chiuso una sotto ancora morto lo sniper quello sotto che continua a brillare donna questo l'ho caricato questo avanti e tra una chiesa di a questo andato ragazzi quello aveva la ground secondo si è ritrovato abbiamo spammato a merda fam col tommy ghani in quattro e che cosa ora se prendiamo un tiro spariamo tutti col tommy ghanari benissimo eccoli ma io non ho preso neanche una cura eccetera e la c'era ma io avevo l'ho usato l'isola eccetera posso fare il coso per volare c'è che c'è un visto sì sì ti ho visto ti ho visto visti visti la vita est o rest citato 110 ma è uno 22 almeno parti così ragazzi che ho fatto il pub ci sono dovuto toglier assolutamente questo tac con che fa uno di danno 2 40 ma è lontanissimo se la prendiamo a prenderlo li vedo al ponte al ponte trovare un bot no no ma non è quello non è quello non è che non è che non è che sono 3 sulle scale di tre stanno guarda vuoi andare da questi a destra eccoli qua sono qui sotto noi ne abbiamo un team qua davanti metallero fermo 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 io l'ho scato qua dentro e ti è quello fuori ti sto saltando il tolto ok non ce l'ho vabbè si è sciolto da sola questa user join è un bombolone ma me la ficcata non ci credo devi tra gli altri devi tra gli altri lo fai da con questo io Tomy Tomy ma non è è dietro l'albero credo non lo vedo ah sopra l'albero guarda 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 riesci a dargli un occhio a sto tizio no ma affatto rega 20 di vita io le va eh addio io non ho cure hai una pedana demo? ci avviciniamo questa volta qua lascia eh dio eh eh ragazzi ho un colpo sono sono un colpo ho un tizio che è qua sopra come un gattino nell'albero nell'albero questo qua però io non ho cure ti lascio un kit arrivo 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 vieni qua ti lascio un kit 38 no vaffanculo guarda che quell'altro ha fai dato con me a pochi materiali questo mi stava proprio sul cazzo pezzo di me dov'è di molti abbiamo un altro team dietro la f***a no cazzo pezzo di me è un altro dietro dove sono io tre v1 tre v1 beh io vado con 10 hp raga no è morto è morto gg questo game tante kill mi sa eh 9 io 9 blink 10 power 8 io 5 demo quante so? raga trovi botta raga trovi abbastanza abbastanza gg man madonna santa a volte parte ciao 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 ciao